Assessore, qualesimale è un'app contro la violenza di genere? Sì, esattamente. Rappresenta un progetto innovativo, un progetto pilota, forse uno dei primi in Italia se non il primo. Vogliamo puntare sulla tecnologia perché sappiamo benissimo che i ragazzi in momento di transizione digitale stanno con gli smartphone, con i computer e quindi vogliamo tramite questa app sensibilizzare gli studenti, tutte le scuolaresche, a evitare ogni atto di violenza. Con la pandemia sono aumentati i casi di violenza nei confronti delle donne ma anche di genere, quindi vogliamo far sì che i ragazzi vengano sensibilizzati tramite questa app che dà una serie di informazioni per prevenire ogni forma di vessazione, di violenza. Sappiamo anche le problematiche soprattutto di bullismo e cyberbullismo e quindi tramite questa nuova tecnologia ringrazio gli uffici per aver portato avanti questa progettualità che ho avuto fortemente e vogliamo partire dai giovani che poi rappresentano le future generazioni per prevenire questo fenomeno che purtroppo è in forte aumento. Quanto investe la regione in questo progetto? 600 mila euro, oggi comunicheremo appunto questo evento che si farà a Terramo il 21 in cui saranno illustrati tutti i dettagli di questa applicazione anche a livello tecnico con le persone competenti che hanno appunto creato questa app. E quando sarà operativa l'app? Ma da subito abbiamo lavorato allegramente per cercare di raggiungere questo obiettivo facciamo questo evento a Terramo di Lancia e poi andremo nelle scuole a pubblicizzarlo ulteriormente perché sicuramente è un'app che ci permetterà di attenuare quantomeno, parliamo di risoluzione ma quando viene di attenuare questi fenomeni di violenza che purtroppo ogni giorno leggiamo sui media.